Sè Non è che è difficile Quando claima Mi sembrerebbe strani E sì Sì Sè Ciao 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 L'epocallo del Pianza Online Mi rapide Spero Vediamo quali sarà il primo tempo D'insegnare per la classifica definitiva, 20-113 per Mirati Deniz e 20-193 per Pericolo 8 con Taitre. Cianni Federico della Polistottina Bellusco, Zampaterra Simone della Red Black Roller Team. Allora sono 20-068 per Zampaterra Simone e 20-222 per Cianni Federico. Cianni Federico della Polistottina Bellusco. E' il tempo di Venti Daniele, 19-723 e 19-772. E' il tempo di Venti Daniele, 19-723. Abbiamo 19-600 per Red Black Roller Team, quindi per Frije. Venti Daniele, 19-16 e 19-772 per Pericolo 8 con Taitre. Venti Daniele, 19-772 per Pericolo 8 con Taitre. Venti Daniele, 19-772 per Pericolo 8 con Taitre. E' il tempo di Venti Daniele, 19-772 per Pericolo 8 con Taitre. Venti Daniele, 19-772 per Pericolo 8 con Taitre. Venti Daniele, 19-772 per Pericolo 8 con Taitre.